ho abbandonato l'etf momentum ciao ragazzi ben ritrovati qui sul mio canale mi chiamo Gianluca Ragnari Bandini sono un trader e un investitore dunque ragazzi faccio riferimento qui a uno dei miei ultimi video il mio piano di accumulo sul MSCI World Quality comunque ha riscosso un discreto successo un po' di commenti qualche like ma giustamente chi mi segue da più tempo mi ha chiesto ok accumuli su Cina ed emergenti e per quanto riguarda il mondo sviluppato stai utilizzando questo etf che hai esaminato nel video tutto ok può essere più o meno condivisibile ognuno è chiaro alle sue strategie e ovviamente la vostra curiosità era ma hai abbandonato il momentum di cui hai parlato mesi addietro insomma un etf di cui sembravi abbastanza entusiasta rulli di tamburo si l'ho abbandonato fine del video no ragazzi ovviamente scherzo sto portando avanti il piano di accumulo sul momentum infatti questa serie di video ancora non è finita poi alla fine vedremo la totalità degli strumenti che sto utilizzando per accumulare ricchezza almeno quello è l'obiettivo insomma si spera che nel tempo le cose vadano bene dunque oltre ai 500 euro distribuiti su Cina ed emergenti ai 500 euro sul world quality sto inserendo diciamo sto investendo 500 euro al mese anche sul momentum inoltre vi anticipo che sto mettendo 500 euro al mese anche su un altro etf di cui vi parlerò domani o comunque prestissimo vediamo un attimo che tipo di programmazione seguirò qui sul tubo e poi alla fine andremo a mettere il tutto insieme e faremo anche le comparazioni qualche ragionamento vi anticipo già che questo ok è la diciamo la mia totalità del piano di accumulo attuale in questo periodo della mia vita quindi di 2000 euro al mese perché metto 500 più 500 più 500 più 500 e quindi fa 2000 e ma il mio diciamo la mia accumulazione non finisce qui quindi sto utilizzando anche altri strumenti ma non sono etf nei prossimi giorni vi andrò a condividere anche questo dunque per quanto riguarda il mio accumulo ecco qui ragazzi i due etf in questione nel senso che entrambi sono un momentum in quanto avevo iniziato su quello dell'iShares e poi diciamo proseguito su quello della dws e vi spiegherò anche il perché ora sto accumulando quindi solo su questo dove c'è più denaro e sto mettendo i miei 500 euro al mese su questo strumento vediamo uno sta restituendo un ritorno del 5.25 per cento e l'altro del 3,31 per cento e ovviamente potrebbe sembrare una performance deludente ma non solo non ho iniziato nel diciamo nel profondo dip no nel proprio nel ribasso totale di marzo quindi un po leggermente più avanti ma non è solo questa la questione e che ovviamente sto accumulando anche aumentato le rate negli ultimi mesi e quindi diciamo sto comprando abbastanza alto rispetto a quando ho iniziato quindi se il mercato continua a crescere chiaro che io medio il prezzo al rialzo quello fatto corrate anche più importanti perché comunque diciamo le cose mi stanno incrocio le dita bandando abbastanza bene e quindi ho aumentato un po le rate e cerco di stabilizzarmi ormai sulle cifre che vi ho detto e quindi è normale è normale queste performance anche perché è un etf che rispetto ad altri ha un po sofferto nelle ultime settimane perché chiaro è un'esposizione su delle aziende growth che hanno visto un grosso cioè un importante ritracciamento eccolo qui l'etf in questione vediamo tutta quanta la schermata in cui ci va a illustrare le caratteristiche qui proprio dalla casa madre che mette questo etf ragazzi è stato creato nel 2014 è praticamente uguale a quello dell'iShare ha una capitalizzazione ovviamente un po più piccolina ma diciamo che andate anche a risparmiare o non nulla ma comunque un risparmio esistente sui costi di gestione annuali mentre quello dell'iShare praticamente costa uno 0,30 questo costa uno 0,25 poi pressoché la composizione è quasi identica in pratica perché ancora non sapesse cos'è il momentum beh è una strategia che mira a includere le società il cui valore ha conseguito rendimenti positivi nel corso del periodo compreso tra i 6 e i 12 mesi precedenti che probabilmente continuerà a conseguire buoni rendimenti nel prossimo futuro è basato sul principio che il trend è il tuo miglior amico in quanto va a estrapolare queste aziende maggiormente in crescita quindi vediamo un numero di componenti di 350 da un indice famosissimo che di cui parliamo sempre qui nel canale lo dicevamo anche l'altra volta lo stesso discorso quindi dicasi per il quality va a estrarre il tutto dall'MSCI World Index quindi praticamente va a estrapolare le migliori 350 rispetto alle 1600 che compongono l'indice per migliori si intende quelle che hanno un maggior trend al rialzo del resto se noi andiamo a esaminare gli indici in realtà sono trenati da un numero ridotto dei titoli cioè molti che si trovano al loro interno non stanno ottenendo delle performance così straordinarie sono ovviamente all'interno degli indici perché hanno una grande capitalizzazione quindi il famoso S&P 500 ci sono le 500 aziende per dire più capitalizzate ma questo non significa che siano necessariamente le 500 migliori o più in crescita quindi diciamo che in questo caso si vanno ad estrapolare queste aziende con questa teoria questa strategia che negli anni nel lunghissimo termine al di là della nascita di questi etf che comunque ci sono 5 6 7 anni diciamo qui che fanno questo lavoro sul world a livello globale si è visto facendo degli studi che comunque ha sempre funzionato è chiaro che può avere degli anni in cui va più in difficoltà magari anche dello stesso indice da cui vengono estrapolate le società ma il principio è che un mercato globale azionario ha sempre un trend al rialzo tranne delle piccole pause dei piccoli periodi dei brevi medi periodi in cui vanno difficoltà quindi se vi è sempre questa tendenza al rialzo e si va sempre a puntare sulle aziende che stanno funzionando di più si dovrebbe riuscire a battere l'indice nel lunghissimo termine senza troppi problemi molti mi dicono ok ma se poi ci switchiamo dal mondo growth al mondo value beh il periodo dello switch sarà il più di sofferenza del nostro etf ma se poi abbiamo un decennio in cui le value corrono più delle growth quindi esattamente il contrario di quello che abbiamo visto nell'ultimo decennio questo indice lo andrà cioè con questo etf lo andrà a cavalcare proprio appieno è normale perché non è che sceglie le growth non è che sceglie fa degli studi fondamentali no e al suo interno ci sono quelle aziende che semplicemente salgono di più se quelle che sono considerate le value avranno delle performance migliori ci saranno quelle al suo interno e quindi questo è diciamo dovrebbe essere all'ealo teorico il principio molti dicono di non puntare sugli smart beta che nel lungo termine non riusciranno a battere un indice di riferimento no sì verissimo dicono le più grandi autorità in questo campo cioè nel mondo finanziario degli investimenti tuttavia vi sono le eccezioni che confermano la regola come dicono che il 90 per cento dei trader non sono profittevoli vi sono un 10 per cento che sono profittevoli come dicono la maggior parte delle persone non riescono a battere il mercato ci sono quelli che invece ci riescono se io ovviamente non avessi la presunzione quella presunzione che potrebbe anche ovviamente farmi fare male o comunque farmi sottoperformare il mercato ma se non avessi la presunzione di poterlo battere non avrei qui un canale in cui parlo di investimenti non farei il trader e tante altre cose quindi spero e credo per ora comunque è così di riuscire a fare delle scelte che mi consentiranno comunque di sovra performare il mercato nel lunghissimo termine nel breve può sempre accadere di tutto ma questo è normale dunque finito qui lo spiegone effettivamente quali aziende andiamo a trovare beh tesla è al primo posto quando esaminavo mesi in mesi fa o anni fa questo etf tesla non era pervenuto mesi fa ha cominciato ovviamente ad apparire qui nelle prime posizioni fra quelle siamo più importanti no della top della classifica ad altronde avuto una crescita incredibile fino ad andarsi a prendere di diritto la prima posizione poi è chiaro che segue anche altri criteri come ad esempio quello di ponderazione cioè se un'azienda fra le meno capitalizzate sale tantissimo ovviamente non potrà stare al primo posto quindi insomma vi è tutto quanto una sorta di piccolo algoritmo che ci dirà quale azienda avere in quale posizione in quale peso e ponderazione andarle a collocare all'interno di questo etf vediamo come appartengono praticamente tutte quanti agli stati uniti d'america proprio perché all'interno di quell'indice sono quelle che sono cresciute di più ma poi se per dire il vecchio continente cominciasse a correre tantissimo questo etf nei mesi si andrebbe ad adeguare questo è normale quindi diciamo che i bilanciamenti gli etf ci tolgono il disturbo di dover sempre seguire nel mercato un'area geografica per dire in questo momento stati uniti hanno un peso del 74 per cento probabilmente alla nascita di questi etf stiamo al 50 per cento circa e se con giappone canada paesi bassi germania danimarca svezia irlanda svizzera e poi altri paesi e l'esposizione in per quanto riguarda la valuta è del 77 per cento usd non è 100 per cento usd perché vedete e prende ad ogni paese poi corrisponde la valuta per esempio abbiamo qui lavoro da giapponese no lo viene 6.99 per cento perché abbiamo un 6.99 per cento alla fine di giappone e poi ovviamente possono essere delle micro differenze perché magari uno potrebbe essere esposto su un paese ma aver investito in un'altra valuta o ci sono dei cambi all'interno delle etf stiamo vendendo qualcosa stiamo contrando comprando un'altra potrebbe esserci anche una piccola liquidità che si tiene il gestore per poi fare dei cambi insomma a volte ci sono delle micro differenze però è praticamente normale che il peso della valuta varda a corrispondere a quello del paese di riferimento per esposizione per ponderazione abbiamo società come e sml ne ho parlato tanti mesi fa nel canale ho comprato anche direttamente quelle azioni diciamo fra le prime posizioni è la prima non americana appartenente ai paesi bassi ma poi riconosciamo paypal adobe netflix google apple microsoft facebook dunque andiamo a confrontare le tf dell'i shares momentum che questo a candele ragazzi con l'altro momentum di ws quello in cui sto investendo io che è xd e m qui i w m o è quello delle shares vediamo come quest'ultimo in cinque anni abbia sottoperformato l'altro di tre punti percentuali cioè non stiamo parlando di niente di straordinario sono praticamente quasi sempre sovra sovrapposti lo ripeto qui abbiamo anche un quel vantaggio microscopico delle spese di gestione leggermente inferiori comunque ho fatto questa scelta ma è la stessa identica cosa è se magari preferite un etf ancora più capitalizzato potete ovviamente scegliere i w m o dell'i shares ragazzi insomma non vedo enormi differenze vediamo un confronto con il classico msi world index quindi se è vero che riesce a distruggerlo questo è l'obiettivo ragazzi questa è la risposta che ci dobbiamo dare eccolo qui prendiamolo e vediamo a cinque anni effettivamente come stia ben al di sotto vedete 64 per cento contro un 107 un 110 insomma dipende quale avete scelto fatemi sapere nei commenti se pensate che in un lunghissimo termine possa continuare questa disparità io ne sono convinto ciò che probabilmente ci sarà all'anno in cui non sarà così ma per il lunghissimo termine sono fiducioso iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto mettete un bel like e noi ci sentiamo prestissimo buoni investimenti a tutti ciao